Vendeva olio da lampade spacciandolo per olio di oliva extravergine biologico. Per questo i carabinieri del nucleo antifrodi hanno denunciato alla procura di Arezzo illegale rappresentante di un'azienda agricola della provincia retina e proceduta al sequestro di oltre 250 litri di falso olio extravergine. L'operazione nasce nell'ambito di controlli straordinari nati con l'obiettivo di verificare la qualità del prodotto conservato nelle rivendite e destinato al consumatore finale. Nel corso di un'ispezione in una fattoria che pubblicizzava la vendita al dettaglio di un olio extravergine di oliva etichettato come biologico e venduto al prezzo di 13 euro al litro i militari hanno accertato che il prodotto non era assolutamente rispondente alle qualità reclamizzate. Analisi di laboratorio hanno evidenziato che l'olio tarocco commercializzato nella fattoria retina era addirittura olio lampante, quello per intenderci che un tempo veniva utilizzato per alimentare le lampade ad olio. Il blitz dei NAS ha impedito quindi che l'olio in questione non destinabile al consumo umano venisse acquistato da ignari compratori.